Salve a tutti! Eccoci! Un'altra partita sempre con San Diego, squadra forte, squadra con la quale non siamo riusciti a fare un punto nella scorsa partita, proprio uno, non siamo riusciti a farlo E adesso ci ritroviamo, ci ritroviamo, non ne ho uno che sia riposato, come si deve, soltanto, vabbè, Strasburg, andiamo con Strasburg, con gli auto e andiamo Vediamo un po', vediamo cosa riusciremo a fare, io penso poco, purtroppo la squadra è forte, è forte tanto, dovremmo cercare di riprendere a vincere, che siamo in una serie negativa Io lo ho tre partite Adesso, c'è il lanciatore che sulla carta è più forte, eh, questo c'ha 97 di overhaul Questo c'ha 97 di overhaul, questo lanciatore, eh, questo sulla carta È nettamente migliore il nostro organico, poi, 97 di overhaul, insomma Dovrebbe, dovremmo stare tranquilli, ecco, fase difensiva, con 97 di overhaul Dovrebbe andare bene, penso Però, buh Però, intanto, questo è il loro primo battitore e noi siamo ancora qua Uno, due, fiamma, oh, e abbiamo prima di niente E a lei Bene, che stiamo indietro Vabbè, scusate, sto imbecillendo Tommi il fan Alla slider Vai con la slider Benissimo Zero, uno, poi Ok, due nodi Benissimo Zero, due Un alto, due nodi Sempre lì Benissimo Zero, tre Ok Secondo eliminato Dai Dai Ora Ora Comunque c'era a dire Che la scorsa puntata Il lanciatore Zack Il buon Zack Non ha lanciato male Anzi Ha lanciato veramente radio Purtroppo L'ha sconfitta E sarà dovuta A Un po' A un arbitraggio Un po' così Che ha Gli ha dato Vaidon Gli ha dato per fuoricampo Quello che fuoricampo non era Perché ha rimbalzato lo spigolo del muro Ed è tornato dentro E E poi soprattutto La fase di ricezione Che è stata Tremebonda Ecco Ah noi iniziamo con Carter Key Boom Benissimo C'è Ok E ovviamente Oh l'aveva L'aveva anche presa L'aveva anche presa Stapa L'aveva anche presa Purtroppo subito A prima La prima base Vabbè Pre Vabbè Niente Secondo Benissimo E poi Questo è Robles Già due riserve In primi I primi due battitori Perfetto Ok E Ball Siamo benissimo Ovvio Molto Incoraggiante Partita Oh Attenzione E' una valida E' una valida Per qualche alcano motivo Lanciano in seconda base Quando potevano eliminare Robles Prima Io ringrazio E andiamo alla prossima Allora Dominic 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 Prefa Ma 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 Niente Ma niente La prendono a volo Quindi Fine primo inning 0-0 Noi continuiamo a non fare punti Neanche Per sbaglio 0-1 Per Strasburg Almeno tu Facci vedere Facci vedere che sei Che app Che il tuo overall E' reale E non Insomma Non è una cosa Un po' così 1-2 Dai Menomale Oh Benissimo Prima eliminato Poi Curva No Steven 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 Caro Strasburg Niente Prenda a volo A posto Secondo eliminato Ok Va bene così Poi E qua 0-1 Va bene Che è la curva Però la curva Non mi piace Va la curva Menomale 0-2 Change up Change up Change up Appalala Niente L'ha toccata 0 sempre 0-2 4 nodi Così Per spaventarlo No Perfetto Bravo Strasburg Per ora sta lanciando Da 97 Per ora sta lanciando Bene Speriamo che continui Comunque Kendrick Il nostro Morpheus Alla battuta E Niente Non Ci abbiamo le mazze Di gomma piuma Evidentemente Evidentemente Siamo qui Con le mazze Siamo con le mazze Di gomma piuma Purtroppo Quelle di regno Sono finite E niente Andiamo con le mazze Di gomma piuma Comunque Prendiamo la palla Manny Non riusciamo A mandarla Più di Secondo eliminato Benissimo Stiamo andando Alla grandissima Tains Eric E niente 0-1 Non so se L'avrebbe chiamato Ball Probabilmente Sì Ma non ne sono Certo Pre La prendiamo Va va Terzo eliminato E niente Sempre 0-0 Anche alla fine Il secondo wing Poi Change up Vai Strasburg Niente Perchè vai a muro Perchè vai a muro Perchè vai a muro Perchè vai a muro C'hai la fidanzata Lì L'ha trovata nel muro E' arrivato L'altro Dai Bene Primo punto Strasburg Che ne dici Di lanciare Decento Vabbè Oh Ok Almeno un eliminato Almeno un eliminato Dai Cosa Chiavolo Stiamo combinando Ragazzi Ancora Sempre la curva Dico Ma l'abbiamo capito Che con questa La curva non funziona Dico Non mi ha dato il cursore Per questo Mi sentivate Gritare con un beduino Perchè Non mi dava il cursore C'è Oh Dico ma devo Vabbè 1-2 E Vai Di qua Sempre 1-2 La curva no La curva no Bene Sono eliminato Dai Forse Da Che forse Niente La curva La Ok 0-1 Poi Niente Se ci siamo fissati C'è la curva Niente Dobbiamo per forza Il fuori di campo Dobbiamo per forza L'addaglielo 0-2 Un'altra curva Dai Vedi che Ogni tanto Sapete Passaggio rapido Ecco Comunque Siamo riusciti a subire un punto In maniera Io Vabbè Vabbè Solito Fase Fase In 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 Presa Vinte Non Non va Vabbè Poi Dai Bolo Ok 1-1 Dai Dai Poi Poi Presa Eh Vabbè Allora Eh Però Se li torna indietro La prende Questo lanciatore I miei lanciatori Se li torna indietro Gli sbatte contro E And 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 E Comunque Prima eliminato Se Abba Ora c'è Strasburg Sì Vabbè Vabbè Eh Che Vabbè Che dobbiamo Vabbè 0-1 0-2 Niente La mazza Non Gli hanno Gli hanno Dato anche a lui Di gomma piuma La mazza Non riesce A proiettare La palla In avanti Oh 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 Terrasburg Ho fatto pure Una valida Va bene Ok Ricomincia il giro Carter Key Boom Minchia Perfect Vabbè Carter Key Boom Presa Vabbè Secondo Eliminato Vabbè Però Porca Vabbè Vabbè 0-1 Noi punti Non li faremo più Capito Punti Non faremo più punti In partita Non Vabbè 3 Fall 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 Ok 0-2 E io E io Sono Uno scemo Io Sono Uno scemo Io Sono Uno scemo Vabbè Quarto inning Ancora Queste curve Vabbè Ah vogliamo Finire queste Palle curve Perché abbiamo Non ci Non Non Oh 1-1 Dai Un altro Quattro nodi Di qua Paul Va bene 1-2 Una curva E ancora Meno male Oh Prima Eliminato Dai Poi Due nodi Meno male 0-1 Poi Qua N1 0-2 Benissimo Qua Sotto A post Un altro Eliminato Credo sia il secondo Che bello Che bello I miei ricevitori Ricevono Che bello Non accadrà sempre Durante la partita Però E' bello sapere Che ogni tanto I ricevitori Fanno quello che Fanno Ricevono Ecco Cioè E' bello Vedete che ogni tanto Lo fanno Ecco Sono Sono contento Di ciò Ecco Scusate Controllato I livelli Se per caso Il microfono Ne sentisse Comunque Change up Change up Oh 2-2 Un altro Un altro Strecco E chiudiamo Sto inning No Non ce la possiamo fare Oh Dai 4 nodi Dai Una veloce 4 nodi A posto così Dai A posto così E adesso Quarto inning In battuta Robles 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 Eeeh Nicole Hanno Salsa così A palombella Primo eliminato Deve Battiamo Porca Miser Strike out È difficilissimo Ce lo fanno Però Fa punto Dominic 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 A 0-2 Vabbè Calma 2-2 Vabbè 0-2 Vai Presa Eeeh Veroni E loro sono veloci Nostrino Secondo eliminato E adesso Morpheus Dai Morpheus Eeeh Però Niente Vabbè Niente Finito anche il quarto inning Noi Continuiamo comunque Sempre a non Non fare punti Manco per sbaglio Eh Proprio Noi faremo Come la scorsa partita Faremo due fuori campo Nell'ultimo inning Quando loro avranno già fatti 5-6-7 punti E qui non serviranno Assolutamente a nulla Quindi Vabbè Ormai Ormai lo sappiamo Con San Diego è così E quindi 0-2 Un'altra curva Eh Benissimo Primo eliminato Dai Poi E qua Questo Strike 1 Benissimo E andiamo Un di curva No 1-1 Una veloce qui Di bordo bordo Va benissimo Fallo 1-2 Poi Un slider là No 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 Non se la beve Un'altra curva Ma Finiamo con queste curve Non funzionano Non le da fare Oh Dai Questo è Strike Ecco Lo sapevo Lo sapevo Lo sapevo Avanti Decimo Strike Out E siamo al quinto inning Cioè Finalmente Un Finalmente Un lanciatore Un giocatore Che corrisponde Nelle prestazioni Al suo Al suo Overhaul Cioè E' Cazzo E' 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 Comunque Quinto inning Sempre 1-0 Fondamentalmente Strasburg Lanciando Da campione Qual è Ci sta tenendo in piedi E adesso La battuta Sta all'incastro Adesso Tocca Tocca la fase Offensiva La battuta Fare Qualcosa Fare qualcosa Fare un punto Fare Non so Però Niente 0-1 Pre Mamma mia Questa roba Ovviamente Era bollo Niente Primo eliminato Vabbè Allora Tenzi Ma cos'era Più fuori Che dentro Vabbè Niente La data strike Vabbè Vabbè Già sterli 0-2 Grazie Ma grazie al regalo Prima base Eric James Si prende una pallata In faccia Si prende una pallata In faccia E gli è regalata La prima base Così possiamo andare avanti Solo che ci prendono In faccia Comunque Ian Gomez Ball 0-1 Poi 0-1 Va bene Va bene Niente Vabbè 2-1 Ok Per me può continuare così Va benissimo Vai Ian Pre E vai a fare Grozny Secondo eliminato Vabbè E a posto Siamo E siamo a posto Strasburg Strasburg Preta E che cosa Sesto inning Strasburg Alla Ballanza Ok No Per favore Priguti Molto Miserio Niente 2-0 Come al solito Fate ricettiva I miei giocatori Se la prendono Con calma La prendono Quella Terza basso Ha preso la palla E stava andando Fa la passaggiata Così La palla Io Io mancavo Come un matto Per fare Subito il passaggio No Tanto io Io Ho premuto Sempre la X Che è il tasto Per lanciare In casa base Io non ho Non ho premuto Il tasto Per la terza Perché lo capivo Che alla terza base Non lo prendevo Porca miseria Purtroppo Vabbè 2-0 Sai che tu Fallungalo Un braccio Ce l'hai lì Dai Ok Secondo eliminato Giusto? Ma io ne avevo Già eliminato Uno No? Non ne avevo Venivato Uno Mi salino Vabbè 0-1 Dai Una bella Però Se ti sbrighi E vai passetti E ci è arrivato All'ultimo I passetti I passetti Fanno Io divento Matto Io divento Matto 0-1 Vai di curva Di qua 0-2 Poi Un'altra Così Fai E allora Adesso Dobbiamo recuperare Due punti Non ne abbiamo fatto Uno in cinque inning Dobbiamo recuperarne due Nei prossimi quattro Va beh Carter Key boom Key boom Mamma mia Però Carter Te la fai Dalla mazza buona Per carità del cielo 0-2 Ok Ball 1-2 Stato ancora Praticamente fresco Riposato Questo qua Presa Dai che si fa La valida E si fa Ah La valida Dai E' una valida E' una valida Dai E' una valida E adesso Ethan Adesso Ethan Vai Ethan Pre E' corto E' corto E' corto Prima eliminato E' E' ora Robles Alta riserva Siamo arrivati a questa partita Veramente Minimi termini Veramente Minimi termini 0-1 Vai Presa E' valida E' valida E' valida E' valida E' valida Perfetto Seconda e terza base Metti che un punticino lo facciamo Magari la possiamo riaprire Dominic Dominic Fammi una cosa bella Dominic Me la fai una cosa bella Dominic Me la fai una cosa bella Dominic Vabbè va benissimo Va benissimo Dominic Va benissimo Dominic Due punti Due punti Due punti Benissimo Va benissimo L'abbiamo pareggiata Non so per quale motivo Ma l'abbiamo pareggiata Bravo Dominic Grande Dominic Grande Dominic Grande Dominic Adesso arriva Morpheus Adesso arriva Morpheus Vai Morpheus E' la E' la E' la E' la E' la 0-1 Presa Presa E' la Va 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 bene Va bene Dominic E' arrivato in terza base Certo Due eliminati Ma Dominic E' arrivato in terza base Oh Starlin Caro Starlin Castro Ce la fai Fanno valida Ball Ok Vai Starlin Vai Starlin Vai Starlin Eh Salvo Salvo E' pure punto 3-2 3-2 3-2 3-2 3-2 Bye Eric Bye Eric Minchia Aspetta Mi sembrava Mi sembrava proprio Ultra Ball Ultra fuori Dalla zona Di strike Invece 1-1-1 Vuole riprenderlo Un'altra volta Vuole colpirne Un altro Vabbè Ok E' Vabbè Niente Qua Stronzata Stronzata Affatto Era Era Chiaramente Ball Comunque 3-2 Per qualche Arcano motivo Si è un passato In vantaggio Va bene Heidi Ho capito Heidi Però Per farlo Cortesemente C'ho da fare Heidi C'ho da fare Allora Qua è Strasburg Ti qua Benissimo 0-1 Dai Change up Si però Strasburg Amico mio Non mi puoi cedere Così però 1-2 Strasburg 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 Per favore Per grazia del cielo Strasburg Niente Gli è andato fuori Foul Foul Che 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 Fortunelli Foul Dai Sprigati Sprigati Ci sto Tre anni E mezzo Primo eliminato Dai Ah Sono dei placidi Ricevitori Allora 0-1 Dai Curva Poi Un'altra curva Dai Bene Strasburg Per carità Hai un 97 Dove roll Sei un 97 Dove roll Strasburg Sei un Maledetto 97 97 Dove roll Dovevi già averlo eliminato Con Posso dirlo come Dovevi averlo già eliminato Poi La veloce Dai Dai E ci vuole così tanto Divina sto stronzo Dai Avanti Vai Strasburg Di nuovo All again 0-1 Dai E qua La Mite Meno male che ha colpito 0-2 Slider Così Dai Ma quanto sei Fai Strasburg E qua Una curva E la puttana Nella Che cacchio fai Ah Sì Vabbè Strasburg Sei un 97 Ti ricordo 97 Strasburg 97 Strasburg 97 Strasburg Uno Dai Dai Ricordo che sei un 97 Strasburg Meno male che quello ha girato la mazza Meno male Eeeh Curva Così Dai Niente Slider Qua Strasburg Per carità Strasburg Sei un 97 Strasburg Sei un fottuto 97 Te lo ricordo sempre Sei un 97 Uuuuh Finalmente E alè Ora Loro cambio del lanciatore Io però mi sa che Mi sa che è meglio Che un paio di sostituti Allora Hudson Warm up Eeeh Suero Spero Spero di non dover usare Mai Suero Ok Allora Ian Gomez Torno Lanciatore Preto Bella Bella Va via Va via Va via Vieni Andata Via 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 Scusate 4-2 4-2 Bravo Gomez Grande Gomez Grande Gomez E alè Certo Questo lanciatore E' entrato adesso La prima palla Che ha lanciato Letteralmente Fuori campo No no Però non ci mettiamo Nessuno Strasburg Finchè Finchè Vivo Io Per ora Strasburg Che cosa Niente Ci ha provato Strasburg Vabbè Niente Prima eliminato Io Comunque Comunque Veramente Veramente Il primo lancio Che ha fatto Fuori campo La prima palla Che ha lanciato E' terrificante Come ingresso In campo Porello Però Vabbè Va bene Dai Carter Key Boom Presa No Per qualche Motivo Non lancia In prima base Ehi Grazie Ok Comunque Come in prima base Dai Eton Vai Eton Vai Eton Vai Eton E' battuta Mani Corta 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 Calmati Ok Secondo Liminato Vabbè Va bene No Robles Robles Vai Robles Vai Robles Voglio credere in Robles Eeeh Minchia Che legna Ti No legna 89 Non è neanche fortissimo Vabbè Per i late Addirittura Robles Ma la fu 0-2 Vabbè 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 Mi sembra centrale E poi mi si sposta Io non so Comunque Ian Gomez Fa un fuori campo E ci porta sul 4-2 Ottima cosa Eeeh Io non ce l'ho Dove Di qua Non l'ho visto bene Che ti sbrighi Oh Grazie Comunque Non ho capito Sta smorzata Così che non c'era Nessuno Nelle basse Però Vabbè Una curva Dai La miseria Eeeh Minchia Perché falta in avanti Testa di Ho capito Strasburg Non è a più Eeeh Vero Strasburg Non è a più Bullpen Hudson Put in game Vai Vai Hudson Si però Però devi Tirarla In posto giusto Hudson Deve essere Ecco Prendila Sereno Tranquillo A posto Secondo eliminato Dai 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 Poi Hudson La Si però Ogni lancio Te la prendono Hudson Non è buono Terzo eliminato Va bene Dai Quello Manny Machado Fatto fuori campo Accorciato distante E adesso Don Don Fai Dominic Fai Dominic Fai Dominic 0-1 Dai 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 Dominic Dai Dominic Morpheus Morpheus Tocca a te dai Valida 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 Fatta la valida Ok Va bene Dai Poi Starlin Castro Vai Starlin Vai Starlin Ball 1-0 1-0 Dai Starlin Starlin Pree Minchia Guarda che doppia Che ci fanno Minchia Ce l'hanno Zampata male Sta doppia Vabbè Ultimo inning In fase di lancio Signori Se riusciamo a non subire punti È fatta 0-1 Dai Azzon Di qua Dai 0-2 Benissimo Slider Qua Benissimo Primo eliminato Dai 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 Poi Veloce così Va bene 0-1 Poi Slider L'anio Tornemore Vabbè 0-2 Va benissimo Poi La Spicolata Spicolata Azzon 1-2 Slider Di qua Va bene Ok Così 4-4 Non ho fatto niente Era troppo bello Per essere vero Mi pareva troppo bello Per essere vero E Qua Adesso è un problema Adesso è un problema Adesso è un problema Dovevamo chiudere adesso Dovevamo chiudere adesso Vai Ti sbrighi Oh Terzo eliminato Dai Eh Dobbiamo fare un punto Adesso Dobbiamo fare un punto Ora Ora Per forza Dobbiamo fare un punto Perché andiamo Sulla lunga Ci massacriamo Andiamo Sulla lunga Sulla lunga distanza Questa è Perse E ci massacriamo Vai Thames Ok 1-0 Vol Dai Guardi quanti cacchio ne hanno di lanciatori Dai Thames Oh Poi Poi No Non Non Sembrava E Schendeva 1-1 1-2 Vabbè 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 Eh No è corto È corto È corto Terminato Vabbè Vabbè Gian Gomes me lo fai un altro miracolo Gian me lo fai un altro miracolo per favore 0-1 0-2 ai 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 ball 1-2 dai 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 eh che mi sembra io non riesco mai a capirlo sta no che co ma va bene ciao vabbè vabbè e vabbè per 1 presa di pau vabbè chi si almeno fa una valida vabbè cosa gli chiedo io eh sì ciao e niente e di nuovo di nuovo di nuovo giocchioni qua siamo si ha i finding supplementari siamo al decimo siamo al decimo prima eliminato prima eliminato prima eliminato mamma poi comunque cazzo non è che stai lanciando qui benissimo te dovresti essere una mano sicura per concludere una partita caro Hudson e non mi sembri tanto sicuro ecco che ti brighi a posto secondo eliminato dai Hudson allora in là 0-1 poi in là prendila sereno serenamente tua serenamente tua a posto terzo eliminato 10 winning battuta carter key boom carter key boom avanti carter niente prima eliminato Ethan vai Ethan presa era valida è una valida è valida questo è una valida va bene dai va bene no no ignora 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 ne sono sostituzione eeeh Robles presa uh valida bene fin in seconda basse valida dai 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 bravo Robles dai Dominic Dominic puoi diventare l'eroe della partita puoi risolverla tu Dominic puoi risolverla tu bolle ok va bene 1-0 va bene 1-0 puoi diventare puoi diventare l'eroe della partita Dominic bolle 2-0 dai non ci sta capendo niente non ci sta capendo niente l'eroe della partita Dominic l'eroe della partita L'eroe della partita Dominic. No 0-1. 2-1 dai dai fai niente. Dominic è l'eroe della partita. Dominic. 3-1. Va bene. Dominic. Vai Dominic. Dominic è eliminato, però abbiamo uomini in seconda e terza base. Ok. Una valida. Chi è che batte? Morpheus. È il momento giusto per attivare Matrix. È il momento giusto. È il momento giusto. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. L'abbiamo vinta. Oh, con tutto abbiamo usato Strasburg come lanciatore. Non so, mio lanciatore l'abbiamo vinta all'inning supplementare. Orca miseria. E poi io... Poi mi... Io rido perché alla prossima ci sarà da ridere. Che poi io... Alla prossima, ragazzi, io... Se non ricordo mai ho combinato le stanchezze nei vari lanciatori. Alla prossima. Dovrà lanciare Scherzer. E noi giocheremo... La terza sarà ancora... Team not found. Non vabbè, fate un cazzo, mi fate andare... Oh! E noi giocheremo contro San Diego. Fate farmi vedere un attimo una cosa. R1, settembre... Ah, poi stiamo finendo... Poi stiamo al penultimo mese. Noi giocheremo contro San Diego. E probabilmente dovrò far lanciare... Comunque! Bene che l'abbiamo vinta! Voglio vedere un attimo... Ah, spero, i Reds, scusa. Calendar... Che mi è stato detto anche come fare per vedere... E i Reds come posso... Allora... Chicago... Ticinati i Reds. Che hanno fatto i Reds? I Reds... Hanno perso... Hanno perso i Reds! I Reds hanno perso. Fermi tutti. Fermi tutti che i Reds hanno perso. Fermi tutti che i Reds hanno perso. Wild Card. Gli manca una sconfitta! Gli manca una sconfitta! Beh, quella che aveva... Abbiamo recuperato la sconfitta la scorsa volta. Eh, però loro... Allora, scusate... Scusate, scusate un attimo. Scusate un attimo. Prima di andare via. Reds. Cincinnati Reds. La prossima giocano contro Pittsburgh. Giocano contro Pittsburgh. Noi... E noi invece piangiamo male contro San Diego. Pittsburgh come come... Ma Pittsburgh... Minchia, Pittsburgh... 37-80... Vabbè, ciao! Vabbè. Vabbè, signori. Non ci rimane che pregare. Alla prossima. Mentre questo palla, va. Scusate. 13 hits in the game.